Bella a tutti ragazzi e bella In questo nuovo video sono Arcioni Oggi siamo da solo Presto avverrà un'amica 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 Allora Come state ragazzi Allora Stiamo in una classifica Un'amica 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 devo cambiare caricatore qui barricata ronda piazza le tassine e fotocamere aiutare che mi stasso di avere una data di nonna chi è qualcuno ha preso qualche piano ma perchè posiciamola lì vabbè vabbè ricarico l'arma alleato cessare il fuoco no ditemi per come non è come ha fatto a non morire ma per cosare ma via mi è salvare brutto ma non l'ho ucciso mi ha handicappato ma non l'ha vista tanto mi scoppiano con la mia draffola riesco a mettere ecco visto avete visto raga proteggete il contenitore di biorischio impedite al nemico di prendere il contenitore di biorischio ecco l'è passato ora vai bravo facco cane vabbè sono stupido al giro ma ora useremo missione fallita difensori neutralizzati a le doc a le doc a le doc a le doc andiamo aspettate a a a andiamo un attimo e chi cosa italiano se grande contenitore di biorischio ok si non mi interessa si ma la sera no non non sono tardi poi che fa 5 5 6 di roma da vero si da io puro assai che sto a fare un video youtube ma davvero sì come credi così ha fatto canali con le challenge allora quello lago che gioca rimbo si chiama arcioni 05 con i miei nomi di della play mi dici come cazzo ha fatto no parco 2 guarda non ci credo cioè raga come ha fatto non lo so guarda tu chi sei iso asci alle d'acqua smog attento c'è il pompa e ci fa il bastardo no c'è la mitraglietta però è il tipo bastardissimo sta lì eh ti consiglio di non buttate subito oh lo vuoi dire eh sono della signora vinciamo la classificata l'hai visto l'hai visto sta un po' a destra eccolo a quello credo a nuovo che si avrà mazza come è morta a gamba aperte ma vorrei stare neutralizzate la minaccia attento credo che c'era la nitro c'è vai prova ad entrare l'hai visto i piedi sta davanti a te sta davanti a te dentro la barricata ma io ho sparato non è morto hai visto si perché era finita no c'è un voto tutto l'intero addosso c'è non è morto non va bene sta cosa non so giuro no provo a prendere no 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 mio frasto voglio far bastardo oh eh andiamo giù rimessa modo slip ammazzare ignorante no non ci sta ah si chi è che rompe coglioni al telefono fammi mettere le ciabatte difendete la dobbiamo proteggere il contenitore lo sai che sta sta schiena gratis quale schiena qua c'è la mira ah infatti chi c'è la messa mira io ancora non ho messo il mio ma sei tu mira no svegliato svegliato porco 2 no riconosce una pezzetta più crescita della mia vita no non hai sbagliato più eh no si perché dici ci sta coso ancora 10 secondi perché se ci sta se ci sta il glitch guarda come ha fatto il drone questi droni sono viscibili sono di gesù cristo no è che laggano peggio di non si sa che con le due so benedetti che laggano un bordello mi metto qua no mi sento che si male ora non più mi metti qua mi metti qua mamma mia attento attento insomma l'hai visto chi è che c'è le grazie chi è che rompe i coglioni ah da sopra la scale dio cristo ma come sono così pippa raga no 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 ho sentito la mia madre che è giuda non posso entrare infatti non sta prendendo il contenitore ma va beh ci viene tanto Sono rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Ultimo nemico rimasto. Uno di questi miei amici è Valerio, Stefano. Oh, Ale e Vale. Lo sai che siamo... Lo sai che state in un video YouTube? Sì, sì. Davvero, non mi credi? No, ovviamente. Sì, siamo in un video... Allora, ti dico il nome del canale? Sì. Arcioni05, cerca. Certo. No, non cercarlo, allora. Ti mando la foto. No, no, tranquilli, tranquilli. Quanti iscritti hai? Due? No, ce ne ho 50, grazie. Ah, beh, bravo. C'ho... Arcioni, come si chiama? C'ho due profili. Allora, Arcioni05. Ho iniziato ieri il caso. Io c'ho due... Due... Che cazzo stavano... Chi è sto rumore? Allora, Stordi, c'ho due profili. Uno... Certo, bravo. Due canali. E io ando sto, sinceramente? E... Stiamo adesso facendo un video? Sì, sì. Non mi credi, guarda che io lo posto dopo. No, tranquillo, tranquillo. Sto a vedere. Perché non mi credi? Ma tu le fatti speciali li metti. No, no, sto proprio a vedere. Ma tu le fatti speciali li metti. Eh, per ora no, perché ho appena iniziato il... 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 Il call. È vero, madonna, è rotto. Lo so, lo so. Ma è una live? Non è una live, giusto? Cosa? No, no, non è una live. È un video. Allora... Io sto... Sto facendo... Quando esce? Fra... Fra... Eh, le... Ma no, ma tu le... Esce, fra... Tipo... Esce, fra... Vabbè, metti GTA. Fra un'oretta. No, GTA non ce l'ho. Che balle. No, che balle, che balle. Vabbè. Ma sto pronto. Ho fatto, sono matto. Beh. Oh, tu ce l'hai la mimica, mamma. No. No. Oh, raga. Ma perché lei ha una torcioni 05, il canale? Perché io faccio video sulla play. Allora, sulla play, come mi chiamo? Fatti una domanda e faccio una risposta. A me, però, devi scrivere il mio migliore amico per il Spider-Man. No, io non ce lo scrivo, perché da come mi ha portato. Appunto, appunto. Sì, ce lo scrivo in descrizione. In descrizione cosa, scusa? In descrizione del video. Madonna, madonna. Che chino! Ma no, l'ho fatta io. Certo no, lo so strutti. Ma loro mi sentono. Certo che ti sentono. Dopo metto il video. No, perché vi fottono la grindata? Manca un round e abbiamo finito questa fottuta. Oh, scusa. Gli dici... Aspetta, tu quanti iscritti c'avevi? Bordello! Ma no, tu quanti iscritti c'hai? Sull'altro canale ce l'ho, sulle challenge, no? Sui videogiochi. Vabbè, però tu su sto canale quanti iscritti c'hai? Per ora tre. Io sì. Tanto puoi vedrai se non mi credi. Ma tranquilli. No! Io ti credo. Tantate, curaccia, fate voi perché... È vero. Grande aledoc. Tanto quello. Ma io ci credo. Usa un nuovo caricatore. Lo stimo, chicco. Oh, scusami, 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 scusami. Scusami, scusami. Restano cinque secondi. No, no, scusa, come ti chiami tu? Eh, so, che scusa, no, no, scusami, scusami, scusami. C'è uno che si chiama sempre Tommaso, allora si chiamano, no, scusami. Allora... No, come se... Ma vaffanculo. Non so dove stanno... Dio che se c'hanno GTI, ma è un'altra richiesta d'amicizia che... E il mio canale, ecco. E... Vabbè. Ah, Gabriele non può... Dio che mi dà fastidio. Capilli? Sì? Io do fastidio. No, che capito. Ma come non l'ho ucciso? Ma Cristo, addio, però... Oh, compono. Cosa? Eh, non bestemmiare, stai su YouTube. Non lo so mica bestemmio io. Appunto. Cosa ci credessimo? Eh, sì, noi te crediamo. Ma io non bestemmi di più. Eh? Eh? Basta, non ne ho fatto. Ti hanno scoperto, torna indietro. Attento, hai visto davanti, te lo sei visto. Madonna, donna, donna, donna. Dovamo Rainbow? Eh... Ok. L'operatore alleato è rimasto. Sì, ok. Noi mettiamo Rainbow, eh? Sì, grandi. No, c'è Kendal. È fresco da noi. Sì. Tanto Kendal sta giocando Gittima. Ma Kendal, ma che è un personaggio dell'Hobbit? Proteggete il contenitore di pericolo. No, Kendal è il mio amico. Venite il nemico di prendere il mio amico. Ma mamma, vuoi giocare un po' Rebo? Eh? Che giocano Rebo? No, non puoi giocare. No, non puoi giocare. No, non puoi giocare per me. Presenti. Ma questo è questo qua, non è gestendo un dito, eh? Ma parruca due, ma che sto facendo? Ma non è normale là. C'ha la mamma isterica. Oddio. Bimbo con la madre isterica. Come si chiama il tuo canale? Arcioni 05, Nicco. Oh, non guarda il suo canale che dà la sua faccia di impressioni. Arcioni? Sì. Ok. Ciao. Arcioni? Aspetta. Vaffanculo. Ciao bimbo con la madre isterica. A un bel più? Dai, manca solo il round, raga. Ce la potremmo fare, Cristo Santissimo. Assurati la posizione del comune dedicore di un po' di più. Tu lo sai fare il big box? Te lo insegno. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Sì. Bravo. È come questo? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. simpatico pure ale è simpatico però no alessandro io lo odio simpatico a te come se si è uno dei miei migliori amici come me vero forse un po di meno perché ci litighi di più no non ci ho mai dedicato lo sai che ha detto alessandro che ti odio ha detto e pure io raga alessandro è quella che abbiamo chiesto o dopo facciamo un video raga dove io contro valerio in personalizzata che vince valerio e valerio io ma quanto ti manca che finisce un po ma faccio alle simulazioni pareva banzi bonzi po segnato il pizzu dello ce la piccola come tutta da non è un nemico rimasto tornare a occuparmi del contenitore dopo averne neutralizzato la minaccia lasciate perdere il contenitore ma tu ce la gettiavalo eh tornate a occuparvi del contenitore dopo averne neutralizzato la minaccia tenete il contenitore alle diventazioni neutralizzati vittoria per gli attaccati per ora da secondi con 5 kg è finito si ha finito ha finito ecco fammi aspetta dieci secondi sì ecco tanto ora faremo un altro video raga spero che il video vi è piaciuto mettete un pollice nel qua sotto nei commenti salutatemi che sono più simpatico di lui vabbè ciao ciao raga aspettate vediamo speriamo che prendiamo un pacchetto alfa in youtube sì sì ragazzi aspetta devo aprire un pacchetto alfa troppo magari aspetta allora raga vabbè come come stavo dicendo mettete un like qua sotto e apriamo il pacchetto e chiudiamo il video che poi ne farò subito un altro vi devo dire una cosa raga io ne faccio tanti perché tanti voglio proprio vorrei essere tanto come fa vj però c'è mai non c'è mai mai vabbè io ci provo non ci riuscirò i vabbè aspetta ciao ciao vittorio chi è vittoria tua nonna no non mi cademi madre c'è la cliente bubo perché tua madre che lavoro fa fa le unghie e lavora in fabbrica a bello posso comunque unghie si dice stedista proprio se proprio devo dire però no anche tatuaggi come si dice fai tatuaggi tatuattaro tuo tatua tatu diciamo tatuattaro tatuatore e che cazzo è tatuatrice che è femmina che è lesbica che è lesbica tu madre no no tu ci sarai oh e non c'è tra ma stiamo ancora su cosa su si aspettate si sto aspettate raga abbiate un po' di pazienza porco due oh meno male allora raga apriamo questo pacchetto alfa insieme quando hai finito il posto entra dimmelo aspetta prima ti devo invita aspetta oh 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 giallo giallo rara rara raga leggendaria leggendaria bellissima per smog proprio bella bella raga bella bella ma è la allora raga ce la mettiamo vabbè raga spero che il video vi è piaciuto mettete un like qua sotto e salvatemi al canale ciao ciao a tutti ragazzi